Il fattore economico non deve prevalere su quello sportivo, lo ha ricordato Papa Francesco incontrando le squadre di calcio italiane di Fiorentina e Napoli, finaliste della Coppa Italia, insieme ai dirigenti della Lega Calcio. Papa Francesco ha ricordato quando lui stesso si recava allo stadio da ragazzo e dei bei momenti trascorsi godendo degli spettacoli autenticamente sportivi. Ha ricordato ai dirigenti, ma soprattutto ai calciatori, la responsabilità che hanno nel dare il buon esempio ai giovani. Siete al centro dell'attenzione, ha detto il Papa. Pensate sempre che il vostro modo di comportarvi ha una risonanza in bene e in male. Siate sempre veri sportivi.